Iniziata l'avventura 2016-2017 per la Biagio Nazaro con il trainer Gianmarco Malavenda. Il capitano quest'anno sarà Michele Domenichetti che prende il posto di Giovanni Fenucci che ha abbandonato il calcio, appeso le scarpette al chiodo si fa per dire. Nuovo arrivo anche Nicola Focante. Ai microfoni di Marcello Temperi ascoltiamo le dichiarazioni dei due giocatori. Con Domenichetti, capitano della Biagio Nazaro, sostituire Fenucci con la fascia di capitano è abbastanza onorioso per questo? Diciamo che è un grande impegno. Giovanni è insostituibile sia come capitano che come persona. Diciamo che c'è stato da esempio. Io ho cercato di prendere il più possibile da lui e cercherò di essere all'altezza anche se come Giovanni è impossibile esserlo. Comunque cercherò di onorare l'impegno al massimo. Con Giovanni che si è visto fino all'ultimo correre come un ragazzino, Domenichetti e Michele, come pensa di sostituirlo? Giovanni è un amico. Lui potrebbe giocare anche altri vent'anni per come sta e come dimostra di stare in campo e la voglia che ci mette, la passione che ci mette. Io cercherò di fare del mio meglio come ho sempre fatto. La Biagio Nazaro non parte come ha detto Andreoni e Carlo con tanti proclami ma ha visto quello che è successo l'anno scorso, qualcosina in più quest'anno si può attendere? Qualcosina in più rispetto all'anno scorso significa solo una cosa. Diciamo che l'anno scorso purtroppo è finita male, però noi ognuno dentro sappiamo quello che abbiamo provato nell'ultima partita e quello che abbiamo provato Anzio e diciamo che ognuno dentro di noi abbiamo un obiettivo ben specifico anche se non partiamo sicuramente con i favori del pronostico però cercheremo di mettere il massimo per raggiungere il traguardo più in alto possibile. Quest'anno non c'è più la Civitanovese, l'anno scorso ha ammazzato il campionato, quest'anno tra Biagio Nazaro, Tolentino e Fabriano Cereto come vede il risultato finale? Perché ora si può parlare tranquillamente senza avere il risultato del campo. Diciamo che il Fabriano anche come l'anno scorso sulla carta ha una grande squadra, forse la squadra. Un po' più organizzata, più completa diciamo, quindi mentre il Tolentino comunque è sempre una grande piazza a cui bisogna portare sempre rispetto diciamo. Quindi sono due grandi rivali ma non solo loro perché in questi campionati come ogni anno c'è sempre diciamo la sorpresa, sempre dietro l'angolo. Con Nicola Fogante, giocatore della Biagio Nazaro, l'anno scorso giocava con il Tolentino, come mai questa scelta? E' arrivata la chiamata della Biagio e tra le altre chiamate che ho avuto è stata sicuramente quella più importante, che più mi interessava e ho deciso subito di venire qua. Ecco, due società importanti, sia il Tolentino che la Biagio Nazaro, l'anno scorso hanno fatto bene tutte e due, soprattutto la Biagio Nazaro è andata a fare le fasi nazionali. Quest'anno qualche pensierino in più? Ma non so la società che cosa ha detto per quanto riguarda gli obiettivi, io personalmente voglio fare bene però adesso siamo ancora in inizio preparazione quindi cercheremo di fare il meglio possibile, visto le nostre possibilità ecco. Una preparazione che inizia oggi, vede Nicola Fogante impegnarsi e soprattutto trovare una società solida con un gruppo solido. Sì, infatti questo è uno dei fattori che ha fatto prendere la scelta verso la Biagio, molti ragazzi li conosco perché alcuni ho anche giocato insieme quindi penso che il gruppo sia forte, hanno fatto bene la società a riconfermare quasi in blocco la squadra l'anno scorso e dai, speriamo di fare bene.